Alessandro Giangandi del Chiosco Mediterraneo, oggi avete perso contro FC Longobarde per serie da due molto sfortunati in questa partita, cosa mi dici di guarda questa partita? Allora riguardo a questa partita è stata una delle migliori che abbiamo fatto perché le altre sono state un po' così così, diciamo, perso anche all'ultimo minuto Poi riguardo al campionato, è stato un bel campionato, la prima esperienza che io faccio al campionato è 3.7 e niente, ci siamo divertiti e per il prossimo anno Ok, grazie, grazie a tutti